Ciao, siamo qui per parlare di personal branding. In realtà forse non ne puoi neanche più, cioè ormai anche persino i chatbot più stupidi hanno capito che cos'è il personal branding, quindi non stiamo a ripeterlo, semplicemente vabbè, la promozione di sé, la comunicazione che ti porti dei risultati in rete. Io faccio un corso su questa cosa, anzi mi sono inventato un metodo e sono qui a parlarti di Playbrand. Playbrand è un metodo che permette appunto di tenere questo corso in modo un po' originale, un po' diverso, è una gara, tant'è che ci sono dei punti, c'è una classifica, ogni volta che faccio fare delle esercitazioni c'è un feedback immediato, a volte c'è una valutazione oggettiva, a volte c'è una mia valutazione sul lavoro che è stato fatto, ogni volta si fa una gara con tutti i partecipanti del corso e alla fine si instilla una classifica e ci sono dei premi. Ma detto questo io voglio un po' raccontarti che cos'è Playbrand, perché appunto ci sono dei giochi che sono molto interessanti per quanto riguarda la costruzione del tuo personal branding. Si parla per esempio della SWOT analysis, uno strumento usato di solito per le aziende per vedere i punti di forza, di debolezza, le opportunità, le minacce del mercato, io lo faccio applicare alle persone. Con lo stesso criterio usiamo anche il business model Canva, oppure usiamo il visual storytelling, usiamo anche, che ne so, la costruzione della propria mission, facciamo raccontare i valori, facciamo verificare che quei valori in realtà siano davvero espressi nella propria comunicazione digitale, perché a volte la gente si riempie la bocca di valori e poi in realtà si comporta in tutt'altro modo. Il mio metodo Playbrand quindi permette comunque di ragionare su alcuni concetti fondamentali che sono quelli del posizionamento, del monitoraggio, della reputazione sostanzialmente. Quindi ti aspetto in aula per questo corso sul personal branding molto originale, non credo che esista sul mercato un altro metodo Playbrand simile e per avere informazioni vai sul sito, anche sul sito gianluigiibuononomi.com. Ciao!